Sempre qua, un anno dopo, sempre in Astri d'Argento, bella soddisfazione anche quest'anno, vero? Sì, sì, molto bella soddisfazione perché quest'anno sono candidata per una canzone, veramente non me l'aspettavo, per cui c'è la mia prima passione che ritorna a galla sempre, tutte le volte, non mi lascia mai, io l'ho detto che non mi lascerà mai, infatti sono qua. Quindi una candidatura che fa anche piacere come detto tu perché ritorna il primo amore, però sei anche nelle sale da poco con un bel film dove sei protagonista, ecco, che ci dici di questo film? No, dici no? Utopia? Eh ma non sono già più nelle sale ragazzi, è per quello, è già andato, durano così poco, durano così poco, ma è un film con un grande cuore di cui risentirete parlare i prossimi anni, non vi preoccupate. Però tanto ti rivediamo presto, no? Tutto può succedere tre? Sì, vita spericolata dal 21 giugno, c'è un po' di cose ancora. Quando arriva tutto può succedere tre? Il 14 giugno. Ok, perfetto, allora ti aspettiamo ben volentieri. Grazie, ciao.